vieni bella andiamo patti guarda chi c'è vieni bella bella brava eh bella brava guarda come sei bella patti guarda come sei bella guarda che bella dai patti andiamo andiamo vieni bella vieni toh 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 è nervosa ma che bella deve dare una beccata a qualcuno per sfogarsi vieni patti vieni bella bella patti sei bella vieni 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 bella cammina un po' che vende la andiamo patti scusate vieni 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 però se stai seduto vieni è calma da e non sempre vediamo patti vieni guarda la doccia guarda la doccia guarda il bagno stamattina uno sport cucci un po' eh vieni 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 se stai seduto non ti becca c'è il cane patti patti vieni qui è ben più grosso di te quello lì vieni qui ma in faccia non ti becca no becca 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 patti entra su vieni vieni patti vieni dentro su vieni vieni dentro c'è il canale infatti ma anch'io è quello che non volevo essere, però mi ricordo grazie, ciao infatti andiamo adesso vedo questi chi cosa stai filmando Carlo? è buono, è buono, buon gustaio da ne è un'oca, da ne è cos'è? è un cigno è un'oca è un'oca andiamo grazie